EICMA 2022, edizione 79, stiamo ricercando l'EICMA Effect. Cos'è la vostra reazione? Intanto però abbiamo deciso di fare qualche domanda ad alcuni dei protagonisti, venite. Inizio, perché questo per noi è l'inizio della nuova stagione e si parla di connessione e condivisione. Deve avere, creare effetto, creare stupore da chi viene a vedere questa fantastica manifestazione. Sensualità e passione, mi sembra che potrebbe essere una buona sintesi. Un effetto wow. Più grande wow è quello nel weekend, quando lo stand è strappino di persone. Per me l'effetto di ECMA è di essere positivi sul futuro, andiamo per la prossima season con confidenza e lo facciamo. Vediamo persone, espositori da tutto il mondo, segno che la formula funziona. Overdose di emozione e di passione. Questo è il miglior momento per comunicare con molti persone.